Oggi è il 27 aprile 2019, sono partito da casa Vittorio Veneto e adesso salirò per questa strada del santo, cosiddetta del santo, al Malgacoro, a circa 1300 metri, come in arrivo al Capitello di Sant'Antonio a mille metri circa, eccolo qua il Capitello, guarda che si può ammirare da qua, i laghi di Revine, prealpi fino al Grappa. Grazie Sempre dal Cadolten in direzione strada del Pizzoc. È frescolino eh ragazzi, c'è ancora un po' di spolveratina di neve da stanotte. Ecco qui, a circa 1300 metri di altitudine, lascio la strada per il Pizzoc e prendo la strada di Taffarel. Grazie 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 Ecco qui, lascio la strada di Taffarel e prendo la strada per l'ammalga Mezzomiglio. Guarda qua che passaggio un po' complicato. In arrivo all'ammalga Mezzomiglio. Sono a 1250 metri in questo momento e non so se riuscino a rendere in questa ripresa la bellezza di questo paesaggio. Come in arrivo all'ammalga Mezzomiglio. All'ammalga Mezzomiglio. E' un'ammalga Mezzomiglio. Come in arrivo all'ammalga Mezzomiglio. E' un'ammalga Mezzomiglio. Come in arrivo all'ammalga Mezzomiglio. mezzo miglio e sto scendendo a pianture e poi a poi a te fa d'alto e casa una giornata bella fredda però è un giro bellissimo vi consiglio se non l'avete mai fatto di farlo e sarebbe più semplice scaricare la traccia che troverete nel campo descrizione sotto la finestra del video un po' di più Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info Grazie per la visione!